Va bene, si è potenziato di nuovo quel coso. Forse è il caso di andare a combatterlo? No, 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 no. C'è ancora Jimmy, c'è ancora Piccolo, poi c'è ancora Yamcha. Ce ne sono, ce ne sono da uccidere. What? Ciao. Contro la montagna. Sparato fuori dal ring così, senza proprio nessuna paura. Bella. Ciao. Perfect anche. Bello che i combattimenti comunque si risolvono in qualcosa come 30 secondi. Andiamo a uccidere Yamcha. Ma sono solo in due, ma io li spezzo questi qua. Ciao. Adesso prendo Piccolo. E non li facciamo fare. Oh, what? Davvero, può farlo? Au. Ok. Boo. Forse lo prendo. No, what? Davvero? Morto. Morto, morto, mortissimo. Ok. È ora di uccidere Krillin. Andiamo, siete pronti? Io sono prontissimo per uccidere gente. Si è potenziato fino al livello 10, davvero? Fa quasi paura. Vieni, vieni ciccio. All or nothing. 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 Si è fatto il recupero in aereo. Che stronzo. Morto. Preso. Madonna se ti sto suonando, Trunks. Ma si sta recuperando l'energia, tra l'altro. Così a caso? Ma pensa a testo, testo di minchia. Oh, oh, ok. Tieni. Maga in cosa può? Morto! Ah giusto, dovevo vedere anche le mie abilità di classe No problem Beh sì No No Ah no Non passi le giornate a fare quello? Cosa fai? Infatti Grande Da Red Ribbon magari Sì vabbè poi Questo è sicuro Capitolo 6 Mappa 8 Allora Ma io posso fottermene altamente e andare subito a salvare la gente perché sta andando un po' troppo per le lunghe questa cosa mi sa Sono a livello 10 questi vabbè stica io potrei comunque riuscire a batterli Gohan Dai che posso salvare Gohan e quindi posso liberarmi di Majin Buu Eccolo qua Vieni È già andato Ok Ok eccolo Vabbè come sistemarlo cioè lo ammazziamo lo ammazziamo di botte come sempre Andiamo piccolo Andiamo piccolo Ma sto andando Magari i cartoni morti mi faranno causa per copiare o almeno cercare di copiare la voce di piccolo Ma una rapa potentissima Allora vieni Morto Proprio mortissimo Ma tra l'altro io non uso mai questa questa oh merda ma cioè Non uso mai la vampata Morto Vai Doppia Cioè usiamola Diamo la vampata tanto per Morto Contro un palazzo Oh yes Contro un palazzo baby E ho sbloccato Gohan adulto Grande Grande Perfetto Perfetto adesso andiamo da Gohan gli spieghiamo tutto E lui sarà contento Ma donna io non so come Gohan non ti odi con tutto il suo essere Ma cosa che è sembra stato più forte di te piccolo Ma cosa che è sembra stato più forte di te piccolo Mamma mia Gohan Gohan cioè la tua personalità non è cambiata da quando avevi 5 anni è una cosa incredibile E non in una cosa incredibile in positivo Intendi Va bene cambiamo Majin V e prendiamo Gohan Che è a livello 8 Vabbè A posto Abilità giocatore Cosa posso fare? Niente Non ho niente di nuovo Eh Così è il consumo parziale Recoprire una parte dei danni subiti dal nemico come salute Oh Zeny vittoria Sì 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 Dammi più Zeny Anche se non mi servono un cazzo fondamentalmente Ma Più soldi per me Io voglio sempre più soldi raga Sono un po' Sono un po' così Voglio sempre più soldi Sono un money grabber Che succede? Non penso proprio Gohan Non penso Che cazzo dici Gohan dai Cioè stava combattendo Krillin fino a due puntate fa Perfetto Ma Ma non so perché però in realtà Va bene Diciamo che va bene piccolo Che hai ragione tu Spettacolare Mi sa che lui ha tutte le pose da Great Saiyan man Non è molto gentile dai Dai andiamo Uccidiamolo Get ready Livelli 6 questi Madonna Vi ammazzo proprio In tempo Due secondi Voglio provare Gohan Quindi il primo lo ammazzo Davvero? Mamma mia Oh madonna Non pensavo che Che riuscisse a prendermi Con quel range A posto Ora è il caso di prendere piccolo Forse Ma smetti di saltellare Vegeta E ti Ti prendi il mio Makanko Sappo in faccia Ok A posto Adesso è l'ora di Gohan Contro Gohan Aha Che cazzo di mossa è questa? Scusate ma che mossa c'ha? Masenko Va bene C'ha solo un Sì Una spinta dell'aura Piuttosto potente però Una spinta dell'aura abbastanza potente Non male Gohan Non male Beh Quando c'è il puntetogativo Il tutorial Vero Che cazzo di tutorial Vuole farmi fare adesso Che mi ha fatto fare Tutto quello Che era possibile Sulla faccia della terra Non c'è tipo Kid Buu Da uccidere Che almeno mi Mi dava un po' di sfida Kid Buu Almeno un pochino Di sfida Me la dimostra Metti a segno un colpo Con una mossa speciale Va bene Fatto Metti a segno Un colpo con una mossa speciale potenziata Ok No scusami Devo caricarmi Per farlo Ok Fatto Metti a segno un colpo con un attacco speciale Ok Intanto lo cambio Configgi il nemico Bella Andiamo Ok Questo è Lo shoryuken di Gohan Au Bello 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 Mi piacciono le mosse di Gohan Non sono affatto male Che mossa speciale ha? Kamehameha Wow Va bene Beh la kamehameha non è affatto impressionante Però A posto Non male comunque come kamehameha Bravo Gohan Ok Andiamo a uccidere Yamcha Dai Non andiamo subito da 16 Me la faccio sudare un po' raga Me la faccio sudare un po' Che mi diverte combattere Non so se è ugualmente divertente guardarmi Mentre combatto 700 avversari uguali Però mi diverte farlo Esegui uno slancio a mezz'aria Va bene Durante il salto Intanto mi carico Fatto Poi Cosa vuoi Uno slancio a mezz'aria Fatto Poi Intanto che lo pesto Un salto elevato Ok Scusate intanto lo pesto Fatto Fai che vuoi Un doppio salto vuole questo Ok Fatto Fai vuoi altro No vuole che sconfigga il nemico Meno male Era anche ora Ciao Krili Krilin Va bene Dai che vado con la super mossa di piccolo Ancora? Ne vuoi ancora? Vuoi le botte di Gohan? Pare di sì Bene bene Level up Ma Gohan continua ad essere livello 8 Scusate Cioè Sono salito a livello 10 E lui non ha fatto niente ancora L'evento di collegamento di Goku Super Saiyan È stato attivato Controllo del menu Modifica squadra E galleria Archi What? Cosa cazzo vuol dire? Evento collegamento Fase 1 Fase What? Ok Facciamo la prima fase Dell'evento collegamento Non so che cazzo Perché Quindi Questo è il tuo primo combattimento Vero? Non c'è bisogno di essere così nervosi Devi solo osservare bene il tuo avversario Vedrai le nostre Da eseguire Arrivando da sole Fai così E ti sembrerà che il tuo corpo Proceda col pilato automatico Va bene Va bene Non vedo l'ora di iniziare a combattere Che siamo a te Ok partner Va bene Ehm Ma devo fare roba? Fase 1 Fase 2 Ah no Fase 1 Va bene Nessuno nell'evento Collegamento disponibile Ma scusate Ma Ehm No Non so Niente Non so che dire Raga Mi sembra un po' Andiamo a uccidere 16 C'è Ehm Così Ma